Ciao, sono Ariella. Amo seguire le Masterclass di Lenka. Perché? Perché lei sa renderti curioso, perché ti stimola a creare sempre nuovi esercizi, senza mai perdere di vista quelle che sono le basi del fitness. Le Masterclass di Lenka sono sempre nuove, sempre diverse, sempre più creative. Con le Masterclass di Lenka ti senti contemporaneamente allievo e insegnante, perché mentre impari nuovi esercizi creativi, assolutamente, ti vedi già proiettato nella tua classe a proporre le varianti di quegli esercizi, le varianti adeguate alla tua classe. Le Masterclass di Lenka sono originali, non ne ho viste ancora uno uguale all'altra. Grazie a Lenka e Donatella e a Be Creative Fitness ho imparato un nuovo modo di far fitness e un nuovo modo di propormi alle classi. Grazie. Ciao. Io seguo le Masterclass di Be Creative Fitness perché mi danno sempre tante nuove spunti per le mie lezioni. Mi alleno e mi tengo sempre in forma. Grazie alle Masterclass di Be Creative Fitness riesco a stare sempre aggiornata e approfondisco così quelli che sono i numerosi contenuti presentati durante i corsi di formazione. Con un costo veramente piccolo, ottengo un'ottima qualità e un'enorme quantità di materiale grazie alle numerosissime lezioni che mi vengono proposte, in modo molto chiaro, preciso e sempre ben organizzato. Allora, io posso dire che Be Creative è stata la svolta in un periodo buio perché avevamo appena riniziato con l'attività sportiva in palestra, perché sembrava tutto, forse, ripartire e invece c'è l'ennesima mazzata. Però, fondamentalmente, io sono sempre dell'idea che non tutto il male viene per nuocere e questa ne è la dimostrazione. Mi ha tenuto compagnia quando ho avuto il Covid, mi sono fatta una bella formazione sul divano febbricitante, ma in compagnia di professioniste, di persone speciali. Bisogna essere sempre dei buoni allievi prima di essere dei buoni insegnanti. Io non smetterò mai di essere un'allieva, le masterclass di Be Creative sono essenziali, sia per continuare a rimanere allieva e soprattutto anche per poi proporle alle mie allieve, ai miei allievi durante le mie lezioni. Quindi arrivo sempre un po' indifferita, ma non le abbandonerò mai ormai. Un bacio all'enca a Donatella e grazie di tutto.